Grazie a tutti. Buongiorno papà. Oh, ciao papà, ma povere, non mi vado a piangere a vedere così. Pazzesco, eh? Questo il cane, questo un vasetto, lo mettiamo qua. L'allergia tremenda. No, è che lo usi tutto. Quel profumo quanti anni ha? 30, 40. Sì, infatti si sente che è un po' cambiato. È un profumo di papà, però è un po' cambiato, si sente un po'. Aspetta, io riesco un attimo e sto soffocando. Sì, sì. Secondo me possiamo fare un po' di posto se mettiamo Franco, Zia Lina e Zio Renzo più vicini. Io però voglio stare con papà. Sì. Vi mettete giù. Io secondo me, secondo me, ah perché il problema è che siamo legati con il nonno qua perché il nonno vuole stare vicino al Romano. Certo. A me piacerebbe essere vicino al papà, se no mi metto sopra, vicino a Franco. No, ti metto vicino al papà. No, ma insomma metti. Ma Cenerita? Sì, Cenerita io. Ho lasciato tutto scritto. Non c'è posto. Fa anche te, no? Sì, sì. Grazie.